La voce del violino è il titolo di un affettuoso film documentario girato da Paola Di Florio e dedicato alla vita e all'arte di una violinista decisamente anticonformista, Nadia Salerno Sonnenberg. Nata a Roma nel 1961 e emigrata negli Stati Uniti all'età di otto anni, Nadia Salerno Sonnenberg è stata allieva di Dorothy D. Lei alla Juilliard School e tra le sue incisioni non si può fare a meno di ricordare il primo concerto per violino orchestra di Shostakovich, una partitura alla quale la violinista si è sempre sentita particolarmente legata. Una vita alla sua che non le ha certo risparmiato i successi ma anche esperienze personali e ostacoli molto dolorosi da superare. Come suggerisce il titolo del film, il richiamo alla vocalità è centrale nell'esperienza artistica di questa violinista. Se da un lato l'amore per l'opera e quindi per la voce era già coltivato nella sua famiglia, dall'altro più in generale è la sua arte violinistica, parlare e cantare attraverso interpretazioni dagli accenti espressivi e persino rauchi, proprio quelli che non le hanno risparmiato anche critiche non lusinghiere. E sono in particolare le sue interpretazioni dei classici ad aver urtato ma anche affascinato critica e pubblico di tutto il mondo. In Nadia Salerno Sonnenberg colpiscono soprattutto un carattere indomito e un temperamento coraggioso e riverente. Il suo approccio alla musica è quindi appassionato e non ortodosso, tanto da meritarle il soprannome di Bad Girl of the Violin. è un artista capace di sciogliere qualsiasi vincolo con la realtà di questo pianeta. era considerata una ragazzaccia. Questa donna è un concentrato di passioni. Anche legandola lei riuscirebbe comunque a liberarsi. A volte mentre suono è come se fossi posseduta. Non era più in sé, continuava a parlare di una certa pistola. Aveva toccato il fondo. Andava su e giù per la casa come una pazza, con la pistola in pugno. Per me la vita non aveva più senso. Immagino che non si possa fumare qui sopra, vero Fred? Che cosa racconta questo documentario? Parla più che altro di me. Capisco. E lei cosa fa? Sono una musicista. Una musicista? Non un'attrice. E cosa suona? Il violino. Davvero? Vuole vedere il mio marchio. Brava. Guarda, guarda. E indossa anche quei fazzoletti che usano i violinisti? No, preferisco questo. Suona anche il violino elettrico? Chi suona il violino sa anche suonare quello elettrico. E suona anche l'Orange Blossom Special? Certo. Brava. Solo in sogno però. Io ho sempre creduto in Dio e penso che lui a volte sia molto impegnato. Secondo me è lassù che ci guarda. Grazie a tutti. Con il violino sotto il mento riesco ad esprimere il mio stato d'animo molto meglio che con le parole. Niente nella mia vita sarà mai importante quanto suonare. spesso suonare è stata la mia ancora di salvezza. Se non fosse stato per la musica, a quest'ora sarei sicuramente già morta. questa scultura dovrebbe rappresentare una trilogia. ma non in senso religioso. È piuttosto l'insieme degli ingredienti che compongono la vita, degli aspetti principali che la caratterizzano. Ovviamente mi riferisco al lavoro, alla salute e all'amore, ai quali ognuno assegna l'ordine che preferisce. guarda questo oggetto, ad esempio. Come vedi è molto più grande degli altri due. È più grande sia della palla che di quel pezzettino di ferro arrugginito. No, questi non vanno bene. Prendiamo gli altri tre oggetti. La tazza, la pietra e la batteria. La tazza è l'oggetto che rappresenta l'aspetto per me più importante, il lavoro. Si tratta dell'oggetto più grande, quindi deve rappresentare l'aspetto più importante. Al secondo posto c'è la pietra, ovvero la salute. Se dovessi descrivere la mia vita usando degli oggetti, beh, userei questi tre. La batteria invece corrisponde all'amore e non a caso è l'oggetto più piccolo. Anzi, per rendere meglio l'idea dovrei toglierla e metterci questo mozzicone di sigaretta. Un sacco di persone mi chiesero se conoscevo questa donna. Un mio caro amico un giorno mi disse devi assolutamente conoscerla, è identica a te, è la tua copia al femminile. Gli chiesi che cosa intendesse dire con questo e lui rispose che solo incontrandola l'avrei capito. Ciò che più c'è comune, il nostro spirito ribelle, per noi le regole esistono, per essere infrante. No, ci sono tre modi per suonarlo. Uno è molto noioso e a noi non interessa. Il secondo consiste nel cominciare con un tempo molto lento, però aumentarlo via via in un costante accelerando, fino al termine del pezzo. Ho capito. D'accordo? Infine esiste un terzo modo che è anche il più comune. Dopo l'inizio si suona più velocemente, poi si rallenta leggermente, e quindi si accelera nuovamente e alla fine si raggiunge un tempo come questo. Tu come lo vuoi fare? Io vorrei suonare spedito fino a lì, perché poi bisogna rallentare. Quindi scegli l'accelerando costante? Sì, fino a lì. Bene. Tra l'altro è quello che preferisco. Cambia tempo. Cambia tempo. Nadia rappresenta la più grande promessa dei nostri tempi. Quando ascolti cantare Pavarotti sai che è Pavarotti. Quando sentivi suonare Heifetz, sapevi che era Heifetz. Dal punto di vista musicale è molto coraggiosa e si prende le sue libertà. Esegue performance che esprimono la passione e il dramma della vita. Nadia ha una personalità molto forte e questa caratteristica è comune a tutti i grandi artisti. Esteticamente è una delle figure più creative dei nostri giorni. Una delle cose che più apprezzo in lei e che le fa molto onore è che non entra mai in competizione con gli altri violinisti. Grazie a tutti i nostri giorni. Alla fine del film lui suona alla Carnegie Hall e lei come al solito è a casa che beve. Il concerto viene trasmesso in diretta alla radio. In quel preciso momento lei si accorge che la loro storia d'amore non potrà mai funzionare. Accende la radio per sentirlo suonare mentre cammina sulla spiaggia e proprio al culmine della sua fantastica performance entra in acqua e si uccide. Alla fine del film lui suonare. non avrei mai immaginato che potesse essere questo il genere della mia prima incisione per loro e invece vennero da me e mi chiesero sei interessata all'epoca io ne avevo un gran bisogno perché ecco io avevo scusate non riesco a parlarne sì lo so che prima o poi dovrò farlo ma cercate di capire è passato soltanto un anno d'accordo allora quando accettai di eseguire la registrazione io all'epoca stavo attraversando un periodo molto difficile mi ricordo che pensavo spesso a quanto è buffa la vita e al modo in cui si succedono i vari avvenimenti come stavo dicendo all'epoca avevo parecchi problemi personali e stavo appena riprendendo da una profonda crisi di depressione che era durata alcuni mesi un'esperienza incredibile non riesco a parlarne non vorrei sembrarle l'intervistatore di una rivista scandalistica ma ce l'ha un fidanzato attualmente no davvero rotto da poco o chiedo scusa non si preoccupi sto bene ma si oggi rompi il fidanzamento domani vai al talk show tutto si dimentica non le pare mi sembra un ottima cura contro la solitudine sì è vero all'inizio era un po troppo impetuosa tendeva a interpretare i brani in modo troppo personale nadia non si limita a riprodurre passivamente i capolavori dei grandi compositori lei aggredisce la musica con incredibile intensità secondo i critici sarebbe dotata di un talento che incute soggezione quasi timore ma c'è dell'altro essi sono anche colpiti dalla foto dei new york yankees che tiene nella custodia del suo violino dal pacchetto di sigarette accanto agli spartiti dall'abbigliamento particolare e dal suo tipico atteggiamento con cui sembra voler dire e chi se ne frega nadia non era certo la ragazzina impaurita che si esibisce timidamente lei si ergeva davanti a tutti suonando energicamente e rendeva il pubblico partecipe delle sue emozioni straordinariamente intense inaspettate per una ragazza così giovane tradizionalmente l'ambiente della musica classica è sempre stato esclusivo dominio di un certo tipo di uomini sono convinta che debba trascorrere ancora molto tempo prima che le donne dalla personalità molto forte come nadia possano entrarvi liberamente senza essere considerate delle estremiste radicali lei non ha un viso impassibile e imperscrutabile come quello di jasha heifetz il quale era un vero e proprio idolo per tutti i violinisti perché pare che non gli sia mai sfuggito nemmeno un sorriso e adesso la marcia tratta da l'amore delle tre mele arance di prokofiev arrangiata da heifetz e il motivo ricorda un vecchio spettacolo televisivo che si chiamava the fbi dicevano sempre a mia madre che dovevo imparare a suonare uno strumento perché sia eric il mio fratello maggiore che mio nonno erano capace a suonare e così quando qualcuno veniva a trovarci ero l'unica che non era in grado di intrattenere gli ospiti con della buona musica un amico di mia madre che doveva laurearsi non so più cosa mi pare in psicologia sì sì in psicologia ebbene vedendomi sempre seduta sotto al pianoforte disse che mi sarebbe venuto un complesso così cominciò a insegnarmi a suonarlo quando veniva a trovare mia madre io mi esercitavo mentre loro chiacchieravano era più un gioco che altro non mi ricordo molto del periodo che ho trascorso a roma soltanto che a otto anni mi trasferì negli stati uniti e mi iscrissi a scuola all'inizio ero spesata mi sentivo come un pesce fuor d'acqua perché non conoscevo una parola d'inglese ero angosciata solo all'idea di uscire di casa il mio accento era molto marcato e anche il mio look era completamente diverso da quello degli altri ragazzi per non parlare delle mie merendine io facevo pranzo mangiando per così dire alla siciliana mentre gli altri alunni si portavano tutti burro di arachidi e marmellata mi ricordo che avevo sempre degli enormi panini con uova pepe e olio a volontà e li avvolgevo in un sacchetto di plastica un'altra abitudine che mi distingueva dagli altri inoltre andavo sempre in cerca di guai avevo un'aria di sfida con quell'espressione che sembrava dire che cosa hai da guardare mi ricordo che un giorno dovevamo presentare e descrivere alla classe il nostro passatempo preferito c'era chi aveva portato i dischi del suo cantante preferito dei giocattoli io invece me ne uscii con il concerto per violino di Brahms lo misi su e lo presentai ai miei compagni spiegando che cosa fosse e che al momento il mio passatempo preferito era ascoltare quel disco scoppiarono tutti a ridere per me fu come un incubo prova a immaginarti cosa significa per una ragazzina essere derisa dai compagni erano tutti lì davanti che ridevano di me non ci vidi più corsi al giradischi tossi bruscamente il vinile rigandolo e gridai siete degli stupidi non capite niente lo rimisi nella sua custodia uscì dalla classe e corsi a casa piansi per tutto il tragitto ma naturalmente non lo raccontai mai in classe continuai a comportarmi in modo sfrontato rispondendo a tutti per le rime mio nonno mi amava più di chiunque altro dal punto di vista musicale è stato sicuramente la persona che mi ha influenzata maggiormente trasmettendomi la sua grande passione per l'opera ogni sabato sera ci sedevamo sul divano ad ascoltare il suo pezzo preferito stavamo fermi immobili in quella camera dall'aria viziata e ci ascoltavamo tutta l'opera che durava più o meno tre ore lui mi raccontava tutto ciò che succedeva nei minimi particolari adesso sta raccogliendo il coltello ed esce dalla stanza poi arriva l'ufficiale e così via inoltre mi spiegava le differenze tra i cantanti d'opera sempre parteggiando un po per quelli italiani proprio l'ultimo passaggio di questo pezzo lo canta tutto d'un fiato ciò mi aveva colpito fin da piccola quando infatti chiese a mio nonno se era vero che lo cantava tutto d'un fiato o se non si trattava invece di un trucco durante la registrazione è possibile che riesca a cantare il passaggio tutto d'un fiato mi domandavo mi esercitavo soprattutto sull'ultimo passaggio di vocalise per farlo sembrare tutto d'un fiato a parole non avrei mai espresso ciò che riuscivo a dire con vocalise mi resi conto di quanto fosse importante per me salire sul palco e suonare mia madre morì quando Nadia aveva 17 anni per tutti noi fu un duro colpo e su mia figlia ebbe delle notevoli ripercussioni lei si trovava a disagio a New York non sapeva che cosa ne sarebbe stato della sua vita e quale direzione avrebbe preso a parte frequentare il college l'unica cosa che faceva era suonare il violino mi ricordo che cominciò ad andare maluccio non aveva più la determinazione e la fermezza di sempre non sapeva nemmeno più se avrebbe continuato a suonare il violino all'epoca stava ancora studiando alla giulia a stretto contatto con dorothy di lei a quanto pare Nadia abbandonò le lezioni e per un po smise addirittura di suonare andai da lei e le dissi senti Nadia credo che dovresti prendere parte al concorso e lei non credo proprio che lo farò allora andai da dorothy e le dissi mi piacerebbe che Nadia partecipasse al concorso e lei rispose no no non se ne parla nemmeno non è pronta fino all'ultimo momento sembrava decisa non partecipare e cambiò idea poco prima che il concorso iniziasse non ho mai incontrato nessuno che suonasse con la stessa energia la stessa determinazione e soprattutto la stessa passione passò dalla inattività più totale ad un esercizio assiduo di 12 13 ore al giorno per i due mesi successivi si stava mettendo alla prova voleva capire se aveva la stoffa per diventare qualcuno le telefonarono di mercoledì per dirle che era passata alle semifinali lei mi chiamava ogni sera e quella volta le dissi Nadia è fantastico sono fiera di te per me è come se tu avessi già vinto lei mi chiamò giovedì dicendomi che era in finale io di nuovo Nadia sono così fiera di te per me è come se avessi già vinto le finali alla carnegie hall erano aperte al pubblico così decisi di andarci ce la mise tutta e vinse quando pronunciarono il suo nome stentavo a crederci non riuscì più a trattenermi ero così emozionata che mi mise anch'io a gridare il suo nome la vincitrice del concorso di naumburg viene da giulia e si chiama Nadia Salerno Sonnenberg debutterà a new york con gunter schulla e la american symphony orchestra suonando il concerto per violino di tchaikovsky è pronta in bocca al lupo anche a lei andrà tutto bene forza grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Quando ha finito si è rivelata completamente. Non esiste più alcun segreto. Lei è così ed è questo che la rende in qualche modo vulnerabile. Mi è capitato diverse volte di toccare con mano le sue sofferenze e i suoi sacrifici. All'inizio i giudizi erano contrastanti. Alcune recensioni erano prodighe di elogi e altre estremamente negative. L'eccessivo trasporto con cui suona fa sì che la sua performance di per sé già troppo emozionale sfoci in un'interpretazione esasperata del tutto innaturale. Mi ricordo che furono solo un paio i critici che stroncarono le sue performance. Mi fece molto male leggere determinate cose. In alcuni articoli apparivo quasi come una criminale. A volte è molto difficile dimostrare il perché di certi sentimenti, anche perché spesso è facile che vengano interpretati erroneamente. A molti non piace come si muove sul palco, non gradiscono la sua mimica corporea. Proviamo più volte a dirle di stare ferma mentre suonava, ma senza successo. Una volta le tenemmo vicine alle gambe e ci mancò poco che cadesse. Sono rimasto sorpreso da quest'artista. La sua interpretazione è soffocata da un ego straripante. Sembra quasi che combatta i compositori che sta interpretando. A volte la sua personalità soverchiante rischia di schiacciare il materiale su cui sta lavorando. Parecchia gente è venuta da me e mi ha chiesto se non potevo fare nulla per controllare e migliorare la sua impostazione, i suoi movimenti, la sua mimica facciale e corporea durante le esibizioni. Io ci ho riflettuto a lungo e sono giunta alla conclusione che si tratta di una forza incontrollabile che prorompe dal di dentro e non di una sua posa esteriore. Credo che smorzare le emozioni spontanee di una persona equivalga a farle violenza, in quanto ne reprimerebbe la natura e pertanto ritengo che sarebbe un grosso sbaglio. Alan, tu li guardi questi programmi? Questa è la ciurma del Voyager. Lei è un capitano, il capitano Janeway. Oh, certo. Questa è Janeway, poi c'è Chakoff. A dodici anni il mio sogno era di riuscire a salire sulla navicella dell'Enterprise. Mi sarebbe piaciuto conoscere il capitano Kirk. Non so cosa avrei dato per poter essere al suo fianco sul ponte. Pensate che bello sarebbe stato ricevere un ordine, un ordine dal capitano Kirk in persona. Penso che questo rappresenti il mio desiderio di una figura paterna. Immaginavo tutte le storie d'amore che poteva avere Kirk, con donne verdi, con altre che avevano sette occhi o magari i tentacoli al posto delle gambe. Lui sì che mi piaceva, era il più in gamba di tutti. Il mio vero padre? A dire il vero non è che sappia molto di lui. Premetto che non l'ho mai conosciuto e, dato che ormai è morto, non avrò mai occasione di farlo, non in questa vita almeno. Quando seppi che era scomparso, cominciai a pensare molto a lui. Si chiamava Nick. Lo ritengo un fatto naturale, visto che avevo appena perso la speranza di conoscerlo. Quando pensavo a lui, sentivo che in me si faceva strada un forte senso di lealtà nei confronti di mia madre. Ricordo che spesso lei mi diceva, se vuoi incontrare tuo padre non è che da dirlo, lui vive a Filadelfia, si può organizzare, chissà, magari dovresti farlo. Quindi non mi avrebbe mai impedito di vedere mio padre, ma io non me la sentii, perché, sinceramente, avevo paura che lei ne avrebbe sofferto. Anzi, ne ero convinta. E se poi mi fosse rimasto simpatico? Cosa sarebbe successo se fossimo diventati amici? Come si sarebbe sentita mia madre? Lui mi aveva abbandonata quando avevo appena tre mesi e lei aveva dovuto crescermi da sola tra mille sacrifici. E improvvisamente, dopo averlo conosciuto, magari saremmo andati a giocare a golf come se niente fosse. Non sarebbe stato giusto. E questo è l'unico motivo per cui non ho mai voluto incontrarlo. Mia madre mi diceva sempre, tu hai preso due cose da tuo padre. Una sono i capelli, purtroppo dico io, e l'altra è il suo modo di scendere le scale. Ricordo che la prima volta le risposi, cosa? E lei, ti giuro, quando scendi le scale sei precisa a tuo padre. E poi hai gli stessi capelli fibrosi. E io dicevo, non ci credo. Intanto però ci rimuginavo sopra e pensavo al mio amore per l'opera, che credo di dover imparte anche un po' a lui. In fin dei conti non è una brutta cosa da ereditare. Inoltre, sotto certi aspetti, sono talmente diversa da mia madre, che mi chiedo se non abbia preso da mio padre molte più cose di quanto mi è stato detto. Suo padre era un cantante, più precisamente un baritolo. Aveva una voce bellissima e adorava la musica in generale, anche se amava soprattutto l'opera. Non posso dire se fosse in grado di commuovere o di scuotere l'anima e la sensibilità di qualcuno come riuscivano a fare i ragazzi. Quando sono andata in Louisiana per un concerto ho chiesto qual è il loro divertimento preferito. Mi hanno risposto che vanno spesso a caccia di alligatori, anche perché lì non sono una specie protetta. Anzi, si riproducono troppo e sono pericolosi perché attaccano vecchi e bambini. Per ucciderli bisogna colpirli proprio in mezzo agli occhi, altrimenti scappano. Durante la battuta di caccia bisogna attraversare le paludi con i serpenti che penzolano dai rami. Sembra un film di avventura davvero eccitante. In quei momenti ti dimentichi di essere un violinista. Pensi solo a stringerti il fucile e stai ben attento che gli alligatori non ti mordano il sedere. Avevate delle guide? Guide? Sì, ben dieci. Le chiamavano Bubba. Alla fine mi hanno dato delle pelli. Io le ho fatte conciare. Sono splendide. Vanno benissimo per fare degli stivali. Bisognerebbe fargli qualche taglietto qui e là e magari far sparire un po' di quella lucentezza. Basta usare dell'aceto. Sì, d'accordo. Faccia un bel lavoro, ok? Mi raccomando, ci tengo. Stia tranquilla. Arrivederci. Qui è la camera 928. Avete una minestra per pranzo? Certo. Non sanno nemmeno cos'è una minestra. 60, 61, 62, 63, 64. Così dovrebbe andare. Tieni la porta aperta, per favore. Ti sei fatto la doccia, Mike? Veramente credo... Hai scorreggiato. Tanto non me ne accorgerei. Qui c'è il Sudafed contro la sonnolenza e qui invece un po' di antibiotico per la tua costipazione. Vediamo Trimox del Trimox. Bisogna prenderne una compressa. Robitussin fa bene contro la tosse. E questo aiuta per il mal di testa. Il dottore ha detto che puoi prendere insieme. Su serio? Tutti quanti. Bene, mi piace prendere tante pillole. L'unica cosa che mi dispiace è di dover suonare quando sto male. Non sono affatto in forma. Sono esausta. Ho paura di non suonare bene e di non sentire l'orchestra. Non voglio suonare perché non mi sento bene, ma sto bene solo quando suono. La musica classica è come una droga. È il nutrimento dell'anima. La musica classica è come una droga. Solo una bassissima percentuale di musicisti diventa solista. Il solista deve riuscire a convincere chi lo ascolta che è lui il rappresentante del compositore. Nadia ha sempre suonato sotto la spinta di un sentimento molto forte. Si tratta di qualcosa che non è mai riuscita a spiegare a parole. Era come un desiderio intenso di riuscire attraverso la musica ad esprimere alla gente quel che provava. Esprime tutta la bellezza della vita. È come una catarsi, una confessione. Se il fatto di essere più sensibile di altri a volte è meraviglioso, altre volte è quasi una maledizione. La musica classica è più sensibile di altri a volte è meraviglioso. La musica classica è più sensibile di altri a volte è meraviglioso. La musica classica è più sensibile di altri a volte è meraviglioso. Nadia entrò al Curtis Institute quando aveva otto anni. All'epoca io insegnavo a Filadelfia. Ogni giorno la accompagnavo a scuola e lei tornava da sola con l'autobus. Mia madre doveva controllare che tornata da scuola si esercitasse per almeno un'ora prima di mettersi a giocare. In realtà ciò non accadde mai. Nadia usciva a giocare quasi subito perché mia madre le diceva ti sei già esercitata a scuola, i bambini si esercitano anche troppo, perciò va pure a giocare, ma non dirla a tua madre. Così andava a giocare a baseball e tutto il vicinato ne era al corrente. C'era sempre qualcuno che l'avvertiva quando sbucavo all'angolo della strada con la mia macchina rossa. Lei correva a casa e si infilava dalla porta del retro, lasciata appositamente aperta. saliva alle scale e si metteva a suonare il violino che si trovava sul letto accanto al leggio con gli spartiti. E io la rimproveravo. Quante volte ti ho detto di lavarti le mani prima di suonare? Sapete quando l'ho scoperto? Il giorno in cui è morta mia madre. Io e Nadia facemmo una passeggiata e fermandoci davanti a due ragazzi che giocavano a baseball, lei mi confessò quel segreto. Ora capisco perché avevi sempre le mani sporche. Questo pezzo l'ho imparato molto tardi perché pensavo di non essere pronta per interpretarlo come si deve. L'autore l'ha scritto perché venga suonato sulla corda di Sol. Lo scrive per la corda di Sol perché così quando raggiungi questo punto senti che il suono è forzato. È innaturale. Sarebbe più facile in questo modo. Ma non si esprimerebbe la stessa disperazione. È innaturale suonare così alto sulla corda di Sol ma è proprio il tipo di suono che desidera lui, capisci? Una tortura. Esatto. Una tortura romantica. Non so perché, ma penso che sia frustrante. È come quando vuoi qualcosa a tutti i costi e non riesci ad averlo. A me viene bene suonare quella roba. A me viene bene suonare quella roba. Hai bisogno d'amore. Adesso è la cosa più importante per te. Non devi pensare troppo al lavoro. Quest'anno è propizio per formare una famiglia e potrebbe essere una cosa abbastanza imminente. Questo vuol dire che ci sarà almeno un bambino nella mia vita. Proprio così. Evviva, che bello, lo spero proprio. Mia madre ne sarà felicissima. E lo sono anch'io. Devi solo imparare ad avere un po' più di pazienza. Tu corri sempre troppo. Se qualcuno ti interessa, preferisci non perdere tempo e cominci subito a correre. Vorrei fumarmi una sigaretta. Posso uscire un momento? Il Natale del 1994 decidemmo di festeggiarlo a casa di Nadia in compagnia di qualche amico. Credo che sarebbe stato il più bel Natale della mia vita. Aprimo i regali e mi ricordo che c'era la frutta secca e tutto il resto. Io ero in salotto che guardavo la televisione e Nadia stava cucinando. Sentimo un suono che assomigliava a una risata. Ci guardammo l'un l'altro e tutto finì lì. Subito dopo lo sentimo di nuovo. Così andammo a vedere. Non era una risata. Mi ci vollero un paio di secondi per capire cosa era successo e altri due o tre per rendermi conto che la mia vita era rovinata. Non riuscivo a vedere la punta del dito perché era coperta da un sacco di cipolle. Mi precipitai in cucina e la vi distesa a terra che piangeva. Si contorceva stringendosi la mano in questo modo. Subito pensai che si fosse tagliata a tutto il dito. C'era sangue ovunque. Ero agitatissima e tempestavo di domande tutti i paramedici. È la migliore violinista del mondo. Ha un talento impareggiabile. È sicuro di sapere come si riattacca un dito. È sicuro che sia possibile ricucirglielo. Ero preoccupata perché essendo sotto Natale i dottori erano tutti a casa con le loro famiglie. Mi ricordo che ero alla funzione con tutta la famiglia quando un paramedico mi chiamò dal St. Luke's Hospital per dirmi che c'era un'emergenza. In pratica la paziente si era recisa a quella che noi chiamiamo estremità distale del dito. Si tratta di quella parte del dito che permette di sentire gli oggetti al tatto. Ormai avevo un pensiero fisso. Non potrò più suonare. Non potrò più suonare. E' sempre molto difficile prevedere il grado di sensibilità che i pazienti riusciranno a riacquistare. A volte avvertono inspiegabili sensazioni di dolore. Ho rischiato di dover smettere per sempre con il violino. Senza contare che mi stavo via via rendendo conto della scarsa considerazione di cui gode la musica in questo paese. Non si rende giustizia a tutti i sacrifici di un artista. Se penso a tutti gli sforzi che ho fatto per conciliare la mia vita professionale con quella privata per riuscire ad essere felice sia sul lavoro che in famiglia qualunque essa fosse. subentra la paura di dover prendere una decisione. E' sempre meglio prendersi un po' di tempo. Io mi ero data esattamente un anno. Però pensa se dopo ti accorgi che tutto è cambiato che tutto è diverso e che non sarà mai più come prima. Come sarebbe stato se non avessi più potuto suonare? Che cosa avrei fatto? Dopo 200 esibizioni si sentiva in dovere di non annullarne nessuna. Ormai la gente contava su di lei. Era molto impaziente. Non vedeva l'ora di guarire e sperava che accadesse più in fretta di quanto era umanamente possibile. Sembrava quasi voler saldare il dito con la colla del suo entusiasmo. riscrisse la diteggiatura di molti concerti per violino suonò a tre dita quello di Tchaikovsky. Erano pezzi che aveva suonato fin da bambina. In quel periodo tenne fede al palinsesto suonando con tre dita da Mendelssohn a Tchaikovsky pur di non cancellare nessuna data. In questo modo però danneggiava i legamenti delle braccia. Il dottore le disse che continuando così avrebbe rischiato di non poter più suonare. Io le dissi di fare molta attenzione perché la circolazione sanguigna e quindi la funzionalità del dito non erano ancora recuperate al 100%. Doveva aspettare che si riformasse uno strato calloso. I violinisti hanno dei calli sulla punta delle dita per proteggerle quando toccano le corde. Continuava a premere il dito infortunato con molta forza e si aspettava di vedere spuntare il callo da un momento all'altro. Sei mesi più tardi e tutto tornò a posto. Iniziai ad apprezzare veramente quel piccolo pezzo di legno. Viaggiavo di città in città e conoscevo persone meravigliose. Suonavo la musica che adoravo su palcoscenici bellissimi. in fin dei conti mi era andata ancora bene. Andai al negozio di animali di Cherry Hill Mall. eravamo sotto Natale e i gatti costavano 19 dollari e 99 mentre li guardavo il commesso cambiò il cartellino 9 dollari e 99 ben 10 verdoni in meno. Così ne presi uno lo misi in una scatola e lo regalai a mia mamma. Lei non voleva gatti ma io gliene regalai uno ugualmente. In realtà era una gattina. Un giorno le prese una colica renale e pensavo che sarebbe morta. i suoi reni non funzionavano più. La prima volta che dovetti farle l'iniezione ero molto nervosa. Alla fine sbagliai ad introdurre l'ago spruzzandomi addosso il contenuto della siringa. Lei è molto socievole e fa continuamente le fusa come adesso. Comunque a lei piace questo trattamento. Lo chiamano fluido sottocutaneo ed è composto principalmente da acqua. È un liquido che contiene vitamine, minerali e elettroliti. È una sorta di risciacquo interno e serve per pulire l'intestino. Non dimentichiamo che da vent'anni non usa più i reni. È venuta con me a New York. Prima vivevamo in una stanza con altre quattro ragazze poi le ragazze sono diventate due e alla fine ci siamo trovate sole io e lei. Mi ha accompagnata nella mia carriera, capisci? È semplicemente incredibile ciò che si riesce a sopportare quando si è costretti. Io vivo a Manhattan e il lavoro mi porta a suonare quasi sempre in città molto grandi però ogni tanto magari mi capita di venire in un posto come questo e guardo un po' cosa vedo. Non importa dove mi trovi in città sulla cima di una montagna o in tenda è sempre uno spettacolo. Ha quasi un effetto terapeutico. Vengo qui da sola scarico i bagagli dalla macchina libero i gatti e mi rilasso. Anche se una volta che ho guardato il panorama penso sì niente male è tutto a posto ho i soldi per pagare l'affitto della casa e la vista è molto bella ma e poi? È solo una casetta carina con un bel panorama una volta che l'ho visto sono molto più felice se posso condividerlo con degli amici. Insomma dopo un concerto può anche farmi piacere prepararmi un aperitivo e venire qui a godermi questa bella vista ma si tratta solo di un momento è destinato a finire io sono felice solo se posso condividerle queste cose la musica da camera è una cosa meravigliosa soprattutto per un solista io ad esempio salgo sul palco e faccio del mio meglio per trasmettere le mie intenzioni al direttore e all'orchestra sperando di riuscirci e che tutto vada bene nella musica da camera devi mettere da parte il tuo ego perché il secondo violinista è importante quanto te è una dicotomia che trovo fantastica anche questo è un esempio di condivisione quest'anno sarà un'estate magnifica rincontrerò persone che non vedo da tantissimo tempo come i vecchi compagni di scuola trascorreremo qui due settimane tutti insieme a Julliard e alla caffetteria è semplicemente fantastico intonazioni intonazioni esalt funktion è molto eccitante è molto eccitante è molto eccitante se solo usaste più dinamiche forza perché non dici qualcosa di intelligente per una volta se solo usaste più dinamiche andiamo fallo per me, di qualcos'altro per una volta ti prego. Su su proviamo ancora, santo cielo cosa possiamo fare? Concentratevi, concentratevi. Proviamo così di getto e vediamo come viene. Credo che molte persone abbiano paura, come dire, ad andare contro le tradizioni. In certi casi esiste un metodo prestabilito di suonare, di eseguire il pezzo. Così, ad esempio, chi suona Mozart non dovrebbe usare un vibrato troppo largo. Queste persone vedono l'arte come un qualcosa di statico che non si evolve nello spazio e nel tempo. Nadia è coinvolgente perché dà sempre una sua interpretazione personale. Non suonerà mai una frase buttata giù alla meno peggio. Voglio dire che dietro alla sua interpretazione ti accorgi che c'è sempre molta sostanza. In che punto finisce Beethoven e comincia Schwarz? Oppure dov'è che Tchaikovsky subentra Salerno-Somnenberg? La nostra personalità deve passare in secondo piano rispetto ai compositori. Io sento che il mio modo di suonare rende un ottimo servigio al compositore che interpreto. Se pensassi di recargli danno, beh, non lo suonerei mai. Che senso avrebbe? L'idea del disco mi è venuta quasi un anno fa. Ci tenevo assolutamente ad incidere Souvenir de Florence di Tchaikovsky e feci di tutto per riuscirci. Coinvolsi Mazz nel progetto e lui mi disse che voleva fare solo qualche arrangiamento. Non fu facile convincere la casa di registrazione a lasciare carta bianca a Mazz perché non lo conoscevano. Non sapevano nulla di lui, non l'avevano mai sentito suonare e non avevano mai visto nessuna sua composizione. Su dai sette camicie per convincerli, ma ne vasse la pena perché Mazz mi ripagò con un capolavoro. Mazz è sempre stato un vulcano di idee. Aspetta un momento. Mi ero bloccato. Durante una lavorazione può capitare di bloccarsi sia mentalmente che tecnicamente. In questi casi si ha bisogno di aiuto. Dentro di me c'erano forze negative e per scacciarle mi è bastato pensare a Nadia. Lei infatti riesce sempre a concentrarsi e ad evitare che queste forze prendano il sopravvento. Fu così che superai quel momentaggio. Grazie per essere venuti. Grande! Non l'avevo mai vista come un mostro e invece può esserlo. Sto parlando della paura, che a volte è davvero molto grande. Tutto ciò che mi dice il mio mostro, però, è sempre qualcosa di molto monotono, calmo, assolutamente logico. Molti mi chiedono se non ho mai paura di fare fiasco, se credo di essere infallibile, una super donna. Esistono diversi modi per combattere questo mostro. Io non credo che riuscirà mai a prevalere su di me perché la mia voglia di successo è più forte. Nadia aveva ricevuto delle lettere da un ammiratore pazzo. Credo che fosse di Portland. Non era certo la prima volta, ma costui ci spaventò sul serio. Avevo bisogno della scorta e delle guardie del corpo. Allora dovevano proteggermi da lui perché voleva dare il via a una nuova razza con me. L'accoppiamento era previsto per l'autunno. Non appena terminei di leggere le lettere, pensai, oh cielo, questa volta Nadia è veramente in pericolo. Mi spedì delle foto, così vidi che aspetto aveva. Una volta salendo sul palco, lo riconobbi, era seduto in terza fila, vestito come un boy scout. aveva la divisa tutta in ordine, era biondo con i capelli tagliati, ben pettinati. Chi l'avrebbe mai detto? Salì sul palco e mi ricordo che mentre suonavo il concerto di Brahms non ero affatto tranquilla. Le guardie erano tutte allerta. Ero molto preoccupato e pensavo che magari non sarebbe stato male se lei avesse avuto una piccola arma, una Derringer. Non si sa mai, avrebbe potuto usarla se la situazione fosse sfuggita al controllo. Chi l'avrebbe mai immaginato che quel periodo fosse soltanto un sinistro avvertimento dello stato di disperazione che la colse in seguito. All'inizio della carriera non si è mai contento. Si vuole sempre di più, più date, più pubblicità, più contratti. È normale. Chi l'avrebbe mai, più pubblicità, più pubblicità. Quando tutto questo comincia ad avverarsi, l'artista si sente letteralmente travolto. Nel caso di Nadia fu una concomitanza di avvenimenti a determinare l'inizio della sua crisi esistenziale. Cominciò ad aver paura di tutto, si sentiva sempre stanca e non sapeva dove andare. Aveva trascorso troppo tempo da sola. Avevo perso il mio equilibrio mentale, anche per colpa di una forte delusione nella mia vita privata. Mi sentivo finita, detestavo ammetterlo. aveva perso una persona che significava molto per lei e penso che la sua identità ne avesse risentito più del lecito. Ma la cosa più grave è che si sentiva finita. Gran parte di lei era ormai svuotata. Eravamo al telefono e mi accorsi che stava perdendo il controllo. Così le dissi che l'avrei raggiunta a casa. Non era più in sé e continuava a parlare di una certa pistola. Quando arrivai, lei la tirò fuori. Andava su e giù per la casa come una pazza, con la pistola in pugno. Alla fine riuscì a strappargliela di mano e a nasconderla. Trascorsi le ore successive al telefono con dei nostri amici comuni per decidere come dovevo comportarmi con lei. Mi disse che aveva bisogno di andare in bagno, ma una volta dentro vedevo che vi rimaneva troppo a lungo. Secondo me aveva visto dove aveva nascosto la pistola. Di certo sarai morta perché non fui io a fermarmi. Ero fuori di me e non avevo la lucidità necessaria per dire no, cosa sto facendo? Forse è meglio pensarci un po' sopra. Beh, non andò così. Mi sedetti puntandomi la pistola alla testa e invece di dire no, premetti il grilletto. Quando entrai nella stanza la trovai in uno stato cattivo. cartatonico. Non so con certezza come abbia fatto a trovare la pistola senza che me ne accorgessi. Può darsi che abbia aspettato che uscissi un attimo per prenderla e nasconderla in un altro posto. Per fortuna la pistola si inceppò. Probabilmente era penetrata troppa polvere negli ingranaggi a forza di rimanere ferma sullo scaffale. La cosa importante è che il suo tentativo sia fallito grazie a Dio. È stata davvero fortunata. Dobbiamo stare attenti a tutti i segnali che ci mandano gli artisti. Dobbiamo capire quando sono soltanto stanchi o quando ci stanno chiedendo aiuto. Aveva accumulato tanta tristezza. Si sentiva molto stanca e affaticata e la vita le era diventata un peso. Non aveva più la forza per andare avanti. Era come se avessi perso la mia identità. Ormai ero solo una violinista che firmava segni a chi mi chiedeva dei soldi. Ero la prima a ritenermi patetica. Non immaginavo che la sua mente fosse così offuscata. Qualcuno pensa che il giorno dopo un'esperienza del genere ci si svegli e tutto sia diverso. Beh, vi dirò una cosa. Non è affatto così. Nulla è diverso. Ma almeno uno pian piano comincia a riprendersi. Le sofferenze che mi avevano spinta a quel punto non erano scomparsi. Anzi, è così bello sentire l'acqua che scorre nel fiume. La cosa più sorprendente è che dopo essere scampata al suicidio non lo considero più nemmeno una remota possibilità. È difficile da spiegare, ma ad un tratto ti rendi conto che non avresti dovuto farlo, che era profondamente sbagliato. Insomma, che non puoi farlo e basta. Quindi non ti resta altra scelta che uscirne. Il processo ha luogo molto lentamente, praticamente di minuto in minuto. Poco per volta il minuto diventa un quarto d'ora che a sua volta si trasforma prima in un'ora e poi in un giorno intero. Eccoci arrivati. Facciamo un brindisi, va bene? Alziamo i bicchieri e ringraziamo il vento che ti ha accarezzato dolcemente. Il sole che ti ha riscaldato tra le sue calde braccia e Dio che ti ha ricondotto sulla madre terra. Salute! Non saprei dire quale sia la fonte ispiratrice per questo disco. La cosa più importante però è che sono tornata a vivere, capisci? Devo ringraziare soprattutto mia madre se ne sono uscita così bene. Lei diceva sempre e ci vuole un bel fegato per essere contenti. Avanti, forza, coraggio. Un minuto per volta non mi pare di chiederti troppo. Ogni minuto ti chiedo solo di resistere fino a quello successivo. Trascorsero quasi otto mesi prima che rialzassi lo sguardo e dicessi, credo proprio che ce la farò, Dio. E lo devo a te o a chiunque altro vegli su di me. È proprio vero che a volte dobbiamo toccare il fondo prima di riuscire a capire quanto sia importante il dono della vita che ci è stato affidato. Potresti inventare le parole. Cercammo di sostenerla con tutta l'energia e la forza di cui disponevamo. Lei riuscì a superare la crisi trasformandola in qualcosa di positivo. Desiderava tanto suonare questo concerto alla Carnegie Hall. Vi dispiace se mi scaldo due minuti da sola? Dato che il gran giorno giungeva appena due settimane dopo, la mia battaglia consistette nell'affrontare il mio dolore. Dovetti indossare l'armatura per combattere ogni giorno e riuscire a superare quel terribile periodo della mia vita, aprendomi un varco che mi facesse riemergere dal più profondo degli abissi. Un giorno ero in giardino e sentì questo pezzo alla radio. Mi sedetti su una sedia e sembravo l'uomo di quello spot pubblicitario in cui lui è lì seduto, gravata al vento, che ascolta lo stereo. Io ero come rapita dalla forza di quel pezzo. Così andai dalla signora di lei, la mia insegnante, e le dissi che volevo imparare a suonarlo a tutti i costi. Ma lei rispose che non era una buona idea, perché all'epoca non era un pezzo del repertorio standard. Prima c'erano ancora molti altri concerti che dovevo imparare. Era molto importante suonare quelli piuttosto che il concerto di Shostakovich. Così mi disse di dedicare le mie energie ad altro, ma per me era molto importante e quando capii che non intendeva insegnarmelo, lo imparai per conto mio. Dovevo assolutamente suonarlo, quel pezzo. Quel concerto divenne il suo chiodo fisso. Così mi disse, non è un po' divenne. Quando ebbe suonato la prima nota, io e tutti gli spettatori delle file davanti che si trovavano molto vicini al palco ci rendemmo subito conto che sarebbe stato un successo. Se c'è un pezzo che meglio rappresenta la battaglia che mi accingevo a combattere e che avrei dovuto combattere a lungo, era proprio quello di Shostakovich. Grazie a tutti. Ero consapevole di avercela fatta e non mi rimase altro che fare l'inchino. Ora posso farlo, l'inchino. Ci vuole un bel fegato per essere contenti. Avanti, forza e coraggio. Ero consapevole di avercela. Ero consapevole di avercela. Ero consapevole di avercela. Ero consapevole di avercela.